Bobo, oggi è iniziato i tre giorni importanti del Giro, come ti senti? Mi senti bene, mi senti felice che abbiamo avuto Matteo e Gianluca in giro, ciò ci ha dato molta fiducia. Ho avuto solo di rimanere con i migliori, che sembra più facile da questo, ma mi senti bene. Mi sento soddisfatto con la mia performance. Ho avuto con i migliori ragazzi, e vediamo domani. Credo che domani sarà un po' differente stagione, sarà difficile da iniziare, una stagione più corta, una altitudine probabilmente un po' più calda, quindi vedremo come succede. Siamo dicendo che sarà un test per capire come il tuo corpo risponde nella ultima settimana del Grand Tour. Credo che è il mio terzo Grand Tour. È il terzo momento in cui mi sento molto bene, nella terza settimana. Credo che la terza settimana non è molto buona per me. e, ovviamente, potresti avere un buon giorno, che è normale. Una buona settimana non significa che ogni giorno sia perfetto, ma spero di performare bene nelle prossime due giorni, e poi vedremo cosa succede. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima